su un match per la Bertramia Stortona Hackett spalle a canestro prova ad attaccare Hanta si alza tirando di mano destra prende anche il fallo brava e lunetta questa potrebbe essere una gara importante Hackett che attacca Hanta le cose si fanno serie adesso per la Virtus perché mancano 5 minuti alla fine del primo tempo Hackett prende l'inizio per Schenghelia prova ad avvicinarsi a canestro per Hackett si alza per il tiro da 3 Hackett apre il secondo tempo lo scarico per Cordinier per Schenghelia nell'angolo Hackett da 3 non sbaglia Daniel Hackett sono 7 punti sempre tra le due formazioni 2 e mezzo per andare a riposo arriva Berinelli gioca 2 con Hackett che si alza da 3 Daniel Hackett ecco ciao 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 ciao